Un consistente plafond per le famiglie e le imprese. Banca Valdichiana, proprio in un momento di particolare sfiducia per l'intero mondo bancario, ha voluto dare un forte segnale al territorio, rinforzando il sostegno per l'acquisto di prime case per il mondo economico. A Camucia, ai vertici della banca, hanno incontrato i rappresentanti dei comuni aretini e delle imprese. Questa iniziativa ormai segue le iniziative degli anni precedenti, per quanto riguarda la presentazione di questo plafondo produttivo destinato alle imprese, alle famiglie e in una destinazione molto allargata a quelle che sono, noi riteniamo, le necessità del nostro territorio perché nel plafondo andiamo a sviluppare proprio un'iniziativa di sostegno ai consumi delle famiglie, con tutti quelli che sono i bisogni delle famiglie, con le imprese per quanto riguarda iniziative di investimento ma anche di liquidità. Una parte importante del plafondo sarà destinato alla casa, alla prima casa. Abbiamo anche una destinazione importante per sostenere le iniziative dei nostri giovani. Pertanto un plafondo che va a coprire necessità a 360 gradi di quelli che sono i bisogni di questo nostro territorio. È un plafondo che questa sera qui a Camucia lo andiamo a condividere con chi con noi partecipa alla vita di questa economica del nostro territorio. Mi riferisco in particolare alle istituzioni, saranno presenti qui i rappresentanti dei comuni delle nostre zone operative ma saranno presenti anche le associazioni categoria e i consorsi fidi per quanto riguarda questa nostra idea di partecipazione e di stare tutti insieme per cercare di finalizzare nel miglior modo possibile le risorse e soprattutto che vengano destinate a degli obiettivi condivisi di crescita, di sviluppo e di sostenibilità del nostro territorio.